Grazie. Facciamo così. Facciamo così. Una ricca collezione di materiali che documentano tutta la storia del cinema, in particolare la storia del cinema muto, con una netta predilezione per l'area di produzione torinese. All'interno di questa collezione molti dei titoli sono stati realizzati, prodotti dalla stessa casa che realizzò nel 1916 Maciste Alpino. Qui vedete alcuni titoli, alcune immagini tratti dai titoli. Una delle grandi e più note produzioni della Itala Film è Cabiria, di cui il museo ha realizzato il restauro sia per la versione muta sia per la versione sonorizzata del 1931. molti altri. Qui già vedete un primo titolo, un primo maciste. che è il primo titolo di una serie realizzata tra gli anni 10 e gli anni 20 interpretata da quello che fu uno dei grandi divi del muto italiano che è Maciste Alpino. E qui arriviamo al film di cui vi descriverò la ricostruzione. Maciste Alpino ha già soltanto, qui voi vedete alcuni dati filmografici sul film, ha delle caratteristiche particolari che ne fecero un grandissimo successo all'epoca della sua uscita e che in qualche modo hanno trovato un nuovo riscontro adesso nella realizzazione del restauro del 2014. Qui vedete alcune delle figure che hanno contribuito alla realizzazione del film e che hanno soprattutto avuto un'importanza straordinaria, Giovanni Pastroni in particolare. E dopo vedete alcune delle figure che hanno curato la fotografia del film, tra queste in questa ultima fotografia a destra, Segundo De Ciomont. E qui il film. Dicevamo prima che è uno dei titoli più noti e più apprezzati nel filone dei film di propaganda e quindi dei film realizzati coevi alla prima guerra ed è un film che si articola in cinque atti e che racconta in breve una storia che inizia nel maggio del 2015 e dove il protagonista del film, Maciste, già schiavo in Cabiria, sta girando un film con una troupe della Italy al fronte, scoppia il conflitto ed inizia tutta questa avventura che ci porterà anche al fronte in alta quota e che si chiude con una vittoria del battaglione degli Alpini di cui Maciste fa parte sull'esercito austriaco nemico. Dopo, se avremo tempo, vedremo un piccolo frammento del film. In breve, la sintesi del progetto di restauro. Alla luce di quanto abbiamo sentito sulla natura del film come bene culturale, non ancora pienamente, come dire, in qualche modo conquistata e codificata, lo stesso si può dire per quel che riguarda la teoria, il metodo e la realizzazione del restauro del film. Ovviamente le radici filologiche ci sono, sono forti, ma è una delle attività delle cineteche, degli archivi, dei laboratori che non è rigidamente, come dire, non è rigidamente sottoposte a norme e a prassi. Nel caso di Maciste Alpino, il percorso che si è potuto seguire è un percorso che in qualche modo racconta un caso di eccellenza perché è stato determinato da fattori concomitanti che ne hanno permesso la realizzazione. Da un lato le risorse a disposizione, dall'altro la documentazione d'epoca conservata negli archivi del Museo del Cinema di cui abbiamo potuto disporre e dall'altro ancora la tecnologia ormai altamente specializzata di cui Davide Pozzi potrà darvi un approfondimento sia nel trattamento delle pellicole delle origini, quindi le pellicole in supporto nitrato di cui vi ha parlato poco fa Sergio Toffetti sia nell'utilizzo della tecnologia digitale proprio nel restauro dei film. Quindi da un lato questo intervento di ricostruzione è partito pur in un principio di non gerarchizzazione delle fonti avendo a disposizione tutte queste fonti d'epoca differenti la prima tappa importante del lavoro di ricostruzione è stata la ricerca, lo studio e la comparazione delle pellicole sopravvissute. Avevamo a disposizione decine di copie a risultato di duplicazioni avvenute nel tempo negli archivi al Museo del Cinema ma non solo al Museo del Cinema ma in questo caso, perché appunto il nitrato ha una sua storia ci sono nitrati che è aperta una scatola è impossibile lavorare, ci sono nitrati che si conservano in modo stupefacente nel caso di Maciste Alpino abbiamo potuto lavorare dopo aver comparato tutte queste copie ed aver potuto valutare che le copie di duplicazione non avevano materiali assenti dalle copie in nitrato abbiamo potuto individuare ben quattro copie in nitrato e una in particolare come matrice del restauro l'altra grossa parte del lavoro è stata invece l'analisi delle fonti d'epoca che hanno permesso, laddove appunto abbiamo riflettuto poc'anzi sul fatto che nel caso di un film nativo in supporto nitrato non è così semplice parlare di restauro non potendo intervenire direttamente e riutilizzare direttamente il supporto d'origine sappiamo di avere a che fare con un intervento di ricostruzione che ha obiettivi diversi la completezza dell'opera e quindi una verifica del montaggio del film l'individuazione delle lacune la possibilità di colmarle e poi anche come obiettivo la possibilità di recuperare dell'opera anche il valore estetico e non ultimo tenuto conto delle condizioni di visione oggi in sala terzo obiettivo quello di restituire oggi la possibilità al pubblico e il pubblico che può vedere in proiezione un 35 mm in questo caso e il pubblico invece che può vedere in proiezione una versione in digitale in dcp in alta definizione 4k del film di avere aperte entrambe le possibilità prima di tutto questo l'altro grande obiettivo a partire da questi materiali è stato quello di ripreparare con questo intervento materiali di conservazione e delle copie su cui si è andato a intervenire e della nuova copia restaurata per una conservazione a media lunga, speriamo, lunghissima scadenza ma come ci dicevamo ancora non si è in grado di valutare quali siano le reazioni nel tempo della pellicola di ultima generazione che è il poliestere adesso un piccolo approfondimento sugli elementi film vi dicevo che per questo intervento di restauro abbiamo potuto individuare una copia come matrice del restauro che è una copia positiva che poi vi dirò questo invece è l'elemento più antico che avevamo a disposizione perché questo è conservato dagli archivi del museo nazionale del cinema ed è entrato a far parte delle collezioni del museo del cinema probabilmente alla fine degli anni 50 grazie ai materiali affidati da Giovanni Pastrone alla fondatrice del museo Maria Adriana Prolo questo è un elemento che per chi si occupa di restauro di cinema in particolare di cinema muto è magnifico poter avere tra gli elementi in pellicola per un restauro perché ha una qualità fotografica straordinaria e il negativo che era in camera cioè il negativo che è stato utilizzato nel 1915 quando il film è stato girato appunto dalla troupe della Itala Film come vedete prima si parlava di collicoazione questo negativo conservato in frammenti con delle punzonature che ci hanno dato elementi per la colorazione della pellicola e l'inserimento delle didascalie come vedete non era in perfette condizioni di conservazione aveva alcune parti colliquate ma siamo riusciti ad utilizzarne quasi 700 metri l'altro elemento è questa copia che è una copia nitrato colorata di più di 1900 metri conservata dal museo del cinema ma non di prima generazione cioè anche nel caso del nitrato vi erano situazioni in cui le copie venivano duplicate più volte dall'analisi in laboratorio di questo elemento e dallo studio delle caratteristiche vedete queste didascalie qui avete un esempio di didascalia rifatta per una distribuzione successiva alla prima uscita degli anni 10 in questo caso questa copia questo positivo nitrato era stata la matrice di un primo intervento di restauro realizzato dal museo nel 2000 quando per poter presentare il film in sala si era provveduto a restaurare soltanto questa copia positiva si tratta però appunto di una riedizione degli anni 20 o addirittura anni 30 ancora non sonorizzata un terzo elemento e qui usciamo dagli elementi film conservati dal museo del cinema e invece questo nitrato positivo colore di prima generazione ma distribuito e questa è una cosa che abbiamo dedotto dalle caratteristiche delle didascalie preparate senza lo sfondo itala e con degli elementi che riconducono a luci all'unione cinematografica italiana quindi una pellicola con la parte immagine di prima generazione ma elementi le didascalie l'ordine di montaggio i colori preparati negli anni 20 infine e questa è stata una sorpresa se c'è tempo poi vi dirò sorpresa in fase di restauro una copia conservata invece dal BFI di Londra un piccolo frammento in nitrato che si credeva non contenesse nulla di differente dalle altre matrici e che invece è stata una fonte che ci ha permesso di completare al massimo il film qui invece passiamo all'altro grosso nodo di cui vi dicevo e quindi i materiali i documenti d'epoca extra filmici che avevamo a disposizione questi tutti conservati dal museo del cinema in questa prima schermata vedete i materiali pubblicitari un manifesto una della ricca serie di fotografie conservate e un articolo della stampa d'epoca tra i moltissimi materiali conservati alcuni si sono rivelati particolarmente utili ai fini del restauro e qui vedete quanti i documenti cartacei conservati dall'archivio cartaceo del museo in particolare questi primi tre documenti che vedete quindi il montaggio soggetti l'elenco delle positive e i titoli che sono dei quaderni di produzione straordinaria fonti di informazioni straordinarie per lo studio dei film e delle opere di quegli anni che fanno parte del fondo Itala Film in più un foglio di montaggio e soprattutto e dopo vedremo perché è importante in questo caso la corrispondenza della Itala Film con gli uffici di Roma in relazione alla censura e i documenti di censura e il nulla osta vi sono poi dei materiali fotografici anzi misto fotografico cartaceo come il campionario quindi questi fotogrammi sempre in nitrato montati su fogli e le didascalie su lastra in più lingue allora in più lingue perché era in uso soprattutto per grandi case di produzione quindi l'Itala l'Ambrosio la Pasquali la Cines e molte altre case di preparare qui in Italia anche le didascalie per la distribuzione sul mercato straniero qui avete un esempio dei quaderni di produzione dell'Itala di cui vi dicevo prima questo è l'elenco delle positive questi documenti contengono informazioni sull'ordine di montaggio del film informazioni presenti a seconda nell'uno nell'altro sull'ordine di montaggio sulla lunghezza delle didascalie sui punti di inserimento delle didascalie talvolta talvolta sono riportati i testi per intero e anche sulla colorazione del film questi sono altri documenti cartacei l'ultimo che vedete a destra il foglio di montaggio gli altri sono due esempi della fitta corrispondenza questo è il campionario colore ecco nel caso di Maciste Alpino questo documento in particolare probabilmente anche perché è montato su carta molto povera non ha condizioni di conservazione buone ma si è potuto comunque utilizzarne informazioni importanti queste sono le didascalie sull'astra qui avete esempi di didascalie in lingue differenti e di un inserto e poi vi dicevo prima l'importanza della censura questo perché in apertura si è detto della scelta in realtà avremmo forse dovuto chiudere lo scorso anno devo tagliare il ciclo mi dicono il ciclo sulla guerra e si era deciso appunto di presentare Maciste in questa occasione qui vediamo gli interventi della censura sul film in breve la versione che Pastrone e Sciamengo la Itala mandarono in censura venne approvata ma a condizione che fossero apportati dei tagli Pastrone molto astutamente non apportò dei tagli al film ma decise di ridurre quelle inquadrature che la censura aveva chiesto di eliminare per un paio di mesi riuscì anche a proiettare il film così fu poi bloccato al Salone Gersi questo per dirvi che l'obiettivo che ci siamo posti in fase di restauro è stato proprio il recupero di questa copia nella versione restaurata sono state reinserite le scene censurate questo è il visto di censura qui in breve la collazione tra le copie la ricostruzione delle didascalie tutti elementi che adesso non abbiamo il tempo di approfondire il ripristino delle colorazioni i materiali realizzati con l'intervento di restauro ecco solo questo mi soffermo soltanto a dire che in alcuni casi quando possibile si cerca di fare in modo che gli interventi di ricostruzione tenuto conto di tutti i punti di equilibrio che si devono trovare nella realizzazione di un progetto rispondono ad alcuni requisiti fondamentali la conservazione degli elementi l'accessibilità del restauro e la documentazione dell'intervento per far sì che sia in qualsiasi momento ripristinabile ed eventualmente migliorabile con vedete supporti diversi che cercano di rispondere a quanto oggi è dato di sapere della sopravvivenza del film sia in fotochimico sia in digitale grazie allora forse può essere interessante come ci era stato promesso vedere sì ditemi possiamo permetterci un frammento di otto minuti o preferiamo una clip di un minuto e mezzo otto minuti e ce lo possiamo permettere va bene grazie a tutti 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 molto bello molto interessante anche dal punto di vista culturale ritornando così all'aspetto che mi interessa dal punto di vista storico e culturale immaginate l'impatto che doveva avere nelle sale cinematografiche durante la guerra 1916 questo combinato disposto tra le prodezze individuali il maciste che porta cannone sulle spalle e le prodezze collettive del manipolo di prodi che fanno tutt'uno con l'azione di maciste che fanno che fanno Grazie a tutti.